Sono al ristorante Il Marroccone. Mi sono molto ravvicinato rispetto ai video che creo da casa mia. Molto più vicino, molto più nitido, molto più tutto. Una meraviglia. Ci sono ancora nelle spiagge, le spiagge di Ghiaia, ancora diverse persone. Dietro al Castelboccale si intravede una forma nerastra. È l'isola d'Elba. È l'isola d'Italia. Grazie.